Partiti al comando Eto'Aldarjan nei confronti di Norbanus, Portoblanco, Passaggio, Canceiunga, Freedom Holder, Adams, il leggero vantaggio Norbanus nei confronti di Freedom Holder, Canceiunga, Portoblanco, Passaggio, Aurelio il Grande, Adams, Dubreville, posizioni immutate con Freedom Holder e Norbanus a condurre nei confronti di Passaggio, Portoblanco all'inizio della curva passa a Norbanus nei confronti di Freedom Holder, Portoblanco e Eto'Aldarjan, Passaggio, Aurelio il Grande, Adams, I cavalli entrano in dirittura d'arrivo con Norbanus in vantaggio nei confronti di Freedom Holder, Portoblanco, Eto'Aldarjan, Passaggio, Centropista, Canceiunga all'interno, Aurelio il Grande, Centropista, è sempre in vantaggio, Norbanus nei confronti di Portoblanco, Aurelio il Grande, Passaggio e Freedom Holder, è sempre in leggero vantaggio, Norbanus attaccato da Freedom Holder, Rigen Reis, Portoblanco, Aurelio il Grande, Lottano, Norbanus, Portoblanco, Aurelio il Grande, è in vantaggio Portoblanco nei confronti di Aurelio il Grande. Grazie. Grazie. Grazie.